Il segreto Il segreto, Tram e Maggio, tre personaggi lasciano il paese, ecco di chi si tratta Nuovo appuntamento dedicato allo sceneggiato Il segreto Le anticipazioni del mese di maggio 2018 ci rivelano che Hernando, Camila e Beatriz lasceranno Puente Viejo Il Dos Casas deciderà di cambiare vita dopo aver scoperto di essere stato ingannato dal suo socio Aquilino Quest'ultimo, grazie alla sua astuzia riuscirà ad impossessarsi del 51 di Los Manantiales e il marito della Valdesalce non potrà fare nulla per tornare indietro Il loro destino sarà segnato? Scopriamo insieme cosa accadrà ai tre protagonisti della soppopera Aquilino cerca di violentare Beatriz, i Dos Casas decidono di lasciare Puente Viejo Il latifondista e la sua famiglia decideranno di partire per la Cecoslovacchia Lì Hernando ripartirà da zero lavorando in un'azienda che appartiene ad un caro amico Il Dos Casas, però, prima dovrà fare i conti con Benagas per un'altra grave cosa che accadrà nei prossimi giorni Quest'ultimo cercherà di violentare Beatriz ma per fortuna verrà salvata in tempo da Marcella La moglie di Mattias si presenterà nel capanno dove si incontravano i due amanti e punterà un fucile contro il Benegas Hernando appena verrà a conoscenza di questo spiacevole fatto si recherà alla Guardia Civile per denunciare il socio Aquilino, però, anche stavolta riuscirà a cavarsella ricattando il consorte di Camila La confessione in attesa della Valdesalce a Nicolà La Valdesalce, prima di lasciare per sempre Puente Viejo saluterà il suo caro amico Nicolà Tutto questo avverrà di nascosto per non far insospettire il perfido Aquilino Clamorosamente Camila rivalerà al fotografo di aver sempre saputo dell'amore che prova verso di lei Dopo questa confessione, la donna lo ringrazierà per essersi comportato in modo corretto e per aver offerto il suo aiuto ad Hernando Subito dopo, i tre protagonisti della sop opera diranno addio anche ai Castaneda, in Iran a Rea e ai due parroci del paese La cubana, il marito e la figliastra metteranno più piede nel piccolo borgo iberico? Fino ad ora nelle puntate andate in onda in Spagna della famiglia Dos Casas non cè traccia Beatriz, però, prima di allontanarsi dalla piazza giurerà a se stessa che ritornerà a Puente Viejo per separare definitivamente Marcella da Matias Manterrà la sua promessa? Per scoprire cosa accadrà al giovane Castaneda ma anche per tutte le altre anticipazioni sulla telenovela di Canale 5, consigliamo ai lettori di digitare sul pulsante Segui Canale Cancelletto il segreto posto sopra quest'articolo Cancelletto il segreto anticipazioni Cancelletto TV So Cancelletto il segreto anticipazioni Cancelletto TV So Grazie a tutti.